Ma bentornati qui su Whatsapp Economy. Io sono Giorgio, il vostro consulente finanziario indipendente, cioè in realtà per alcuni di voi, per gli altri se volete, link in descrizione. Oggi voglio raccontarvi di un episodio che mi è successo personalmente. Infatti qualche giorno fa, uscendo tra amici, a un certo punto loro mi chiedono, essendo io un consulente finanziario, una mia opinione su una piattaforma di trading che loro non sapevano se era affidabile oppure meno. Ecco quindi che mi è sembrato interessante raccontare anche a voi come un professionista si approcci a questa tematica e come riesca a risolverla. Non farò la pubblicità di questa piattaforma, quindi non vi dirò il nome perché non voglio che voi entriate a contatto con questo tipo di offerta. È importante invece andare a vedere tutta una serie di piccoli consigli che vi dirò per fare in modo di essere più consapevoli su come approcciarvi a una proposta finanziaria o a una piattaforma di trading. Anche perché appunto avendo degli amici o degli amici degli amici che hanno investito in queste piattaforme e parlandoci anche è stato molto interessante ma a un certo punto anche preoccupante di come alcune persone in maniera o ingenua o magari poco informata entravano in questo tipo di proposte che poi come vedremo risultano abbastanza problematiche se non delle vere e proprie truffe. Quindi andiamo per gradi. Una prima cosa interessante che ho notato era l'approccio dei miei amici che cercavano di confutare o validare nella maniera più assoluta e certa possibile se quella piattaforma fosse una truffa oppure meno. Ecco in questi ambiti però non è l'approccio giusto. Non siamo in un giorno in pretura. Non è come dice la legge che dobbiamo avere ogni oltre ragionevole dubbio per poter condannare quel tipo di piattaforma. Non è così che funziona perché se siamo certi che una truffa è già troppo tardi significa che o abbiamo già perso i nostri soldi oppure la truffa si è sgonfiata e quindi non possiamo neanche accedere a questo tipo di truffa. Quindi essere sicuri al 100% che sia una truffa è già troppo tardi e i nostri soldi potrebbero essere già persi. In realtà bastano anche uno o due dubbi sulla veridicità della piattaforma per allontanarci da quel tipo di offerta finanziaria. Ma quali sono questi dubbi che ci devono venire in mente per catalogare una piattaforma come qualcosa di inaffidabile? Innanzitutto ho cercato di fare qualche domanda ai miei amici per cercare di fargli descrivere la piattaforma e cercare di capire anch'io come funzionava. Ecco il primo campanello d'allarme che neanche loro sapevano esattamente come funzionava e quindi avevano molta difficoltà a spiegarmi anche a me i meccanismi di funzionamento. E sostanzialmente si affidavano in maniera abbastanza cieca alla piattaforma, ai suoi meccanismi poco chiari e sperando ovviamente che tutto andasse per il meglio. Già questo primo approccio al mondo finanziario è estremamente sbagliato e dovrebbe allontanarvi da questo tipo di operazioni finanziarie. Anche io stesso facendo la mia consulenza finanziaria ci tengo tantissimo affinché il cliente sia informato di quello che si sta facendo con i loro soldi. Mentre avere delle piattaforme poco chiare o che nascondono alcuni procedimenti dell'investimento è sicuramente un grande campanello d'allarme. E ovviamente non capire quello che si sta facendo è una fonte di rischio per il proprio patrimonio. Oltre a questo una delle prime cose che bisogna fare è andare su Google, San Google che molto spesso ci aiuta, e scrivere Consob e poi la piattaforma di investimento oppure la società che gestisce la piattaforma di investimento. Ecco che in questo caso la Consob ci può dare un sacco di indicazioni. In quanto tutte le società finanziarie che possono operare in Italia o in Europa sono state controllate e vagliate già prima dalla Consob. E all'interno del sito Consob c'è un elenco di tutti gli operatori finanziari che possono operare all'interno del territorio nazionale. Quindi se andate a quella pagina che vi sto mostrando e digitate quel operatore e non lo trovate nella lista, beh anche questo è un grosso campanello d'allarme perché appunto non è regolamentato dalla Consob e quindi potrebbe operare determinate operazioni non proprio legali nel territorio italiano oppure i clienti stessi potrebbero non avere le tutele che invece hanno i clienti che usano degli strumenti finanziari che sono regolati dalla Consob. Sulla piattaforma che mi avevano mostrato venivano mostrate anche delle licenze extraeuropee, ad esempio quella di Singapore o di altri stati, ma quelle non bastano. Le licenze, anche se sono straniere, devono comunque essere vagliate dalle autorità finanziarie dello stato in cui noi residiamo. E quindi se anche c'è una licenza di Singapore ma non è convalidata dalla Consob, quella piattaforma rimane comunque una piattaforma illegale nello stato italiano. Tra l'altro nel caso specifico la certificazione di Singapore era addirittura annullata o scaduta. Quindi anche lì nel sito internet non vale nulla se c'è scritto che hanno quella determinata certificazione. Bisogna andare a vedere nell'ente certificante se effettivamente è presente quella società di gestione. Altro aspetto molto importante. Cercando di informarmi su questa piattaforma con i miei amici, ovviamente gli ho chiesto anche il sito internet, l'URL. E mi hanno detto che in realtà esistono diversi URL su quella piattaforma. Anche questo è un indice preoccupante. Questo perché? Perché le società che vigilano i mercati finanziari come ad esempio la Consob non hanno grandissimo potere di impedire l'attività illegale nello stesso territorio italiano, se non quella di cercare di oscurare i siti internet. E quindi cosa succede? Quando la Consob oscura pincopallinoinveste.com, allora che cosa fa Pincopallino? Crea un altro URL e magari pincopallinoinveste.tld oppure .net, con ovviamente dei finali anche magari molto strani. Tutti questi cambi di dominio sono molto insignificativi perché appunto la società che gestisce questa piattaforma sta cercando di rinnovare continuamente i domini, cercando di evitare l'oscuramento del dominio da parte delle autorità di vigilanza. Quindi se trovate diversi domini che configurano verso un'unica piattaforma e domini anche abbastanza strani, anche questo è un segnale che la piattaforma probabilmente o è una truffa o è gestita in malo modo e quindi non dà al cliente le giuste garanzie per l'investimento del proprio patrimonio. Altra cosa a cui stare attenti, possono sembrare cose stupide o banali, ma appunto io ho visto con i miei occhi gente che comunque ci ha investito in queste piattaforme, è avere l'assistenza clienti con Nessuna società che si rispetti ha l'email con il finale gmail.com, di solito è assistenza-pincopalinoinvestment.com al massimo, quindi anche lì è segno di una società che sta facendo le cose in maniera totalmente sbagliata. Ma non è finita qui, perché parlando ancora con i miei amici mi raccontano anche che per iscriversi bisogna mandare i propri dati personali con anche la copia di documenti attraverso un canale Telegram non ben identificato. Anche questa cosa è molto suggestiva e ci fa capire di quanto le procedure di gestione dell'azienda siano estremamente fittizie o truffaldine. Sappiamo ormai tutti, visto anche le ultime notizie di qualche settimana fa, che Telegram non è che rispetti propriamente le normative di GDPR. Di frequente su Telegram avvengono furti di identità, creazioni di profili falsi con i vostri documenti, quindi anche questa è un indice di una piattaforma truffaldina a cui io non investirei mai. Una volta fatta questa iscrizione su Telegram veniva richiesto anche un versamento di capitale all'incirca 300 euro se non sbaglio. Ecco, anche questa è una cosa molto sospettosa. Riguardo a tutte le piattaforme di investimento vere e affidabili, l'unica cosa che basta fare per iscriversi è semplicemente iscriversi attraverso le loro procedure di raccolta dati che rispettano ovviamente la GDPR. Non c'è mai un'imposizione di versamento dei soldi. Al massimo l'unica cosa che avviene è versare quel centesimo per fare in modo che avvenga il collegamento tra il vostro conto bancario e il conto della piattaforma. Ma non c'è mai un'imposizione da parte della piattaforma di investire fin dall'inizio dei soldi. Ogni cliente, ogni persona in Italia che vuole provare una piattaforma di investimento può tranquillamente provarla senza mai investire neanche un euro. E la società non ha mai il diritto di obbligare il cliente a versare dei soldi. Ecco invece quando ci sono delle piattaforme che ti chiedono al momento dell'iscrizione di versare necessariamente del capitale, si tratta molto probabilmente di una truffa e in particolare un modo di uno schema Ponzi. Ora, molti di voi se non quasi tutti sanno cos'è uno schema Ponzi, non c'è bisogno di raccontarvelo in questo video altrimenti finiamo dopo domani, è semplicemente una business model di una truffa per cui i guadagni derivano dalle iscrizioni all'interno della piattaforma di altre persone. Notate come al momento dell'iscrizione sia fondamentale versare i soldi per alimentare lo schema Ponzi. Invece in tutte le altre piattaforme lo schema Ponzi non avviene mai perché tu puoi semplicemente iscriverti e non versare soldi e quindi non scatta mai questo schema Ponzi. Un ulteriore segnale che testimonia questo schema Ponzi è quello che gli amministratori o comunque la società ti incentiva o ti invoglia a far arrivare altre persone anche in maniera abbastanza predominante e invasiva. Anche questo l'ho visto con alcune persone o conoscenti dove mi raccontavano la piattaforma e poi mi invitavano anche in maniera abbastanza solerte e vivage a iscrivermi nella piattaforma. Questo perché? Probabilmente perché gli amministratori o la società incentivava con nuovi premi questa persona se faceva entrare altre persone. Sono già due indizi molto importanti quasi praticamente necessari e soddisfacenti per la dimostrazione di uno schema Ponzi. Questa piattaforma di trading oltretutto era fatta molto bene perché c'era tutto un meccanismo particolare anche qui molto nebuloso che faceva sembrare ai clienti che stavano veramente investendo perché ad esempio dava dei segnali di investimento loro li seguivano e quindi si creava questo trading che faceva aumentare i soldi nel proprio portafoglio. Però anche qui dinamiche poco chiare non si capiva come avvenivano le transazioni schermata di order book non propriamente definite in maniera classica grafici anche lì che potevano essere non chiari che potevano essere fatti in maniera artificiale quindi fittizia e non reale venivano mostrate alcune criptovalute ma non c'era un paniere di criptovalute di strumenti finanziari così grande era estremamente ristretto anche lì se tu vuoi fare trading magari vuoi avere bisogno di tantissimi strumenti finanziari invece anche lì il paniere ristretto ti dovrebbe far allertare anche lì e oltretutto ad ogni operazione che il cliente effettuava in base ai consigli della piattaforma erano tutte in guadagno incredibilmente ogni volta che acquistava o vendeva uno strumento finanziario il cliente faceva soldi io l'ho vista di persona la lista di ordini passati erano tutti in positivo anche questo è molto preoccupante perché? beh perché non è possibile che ad ogni operazione avvenga un guadagno anche il miglior trader c'è almeno qualche volta che perde su una determinata operazione invece in queste operazioni guadagnavano ogni singola volta questo perché? perché ovviamente dovevano mettere della fiducia nell'investitore investitori che molto spesso quando entrano in queste piattaforme sono degli investitori molto inclini ai propri umori ai propri sentimenti quindi magari quando vede che inizia a perdere soldi magari cacciano i soldi dalla piattaforma ma questo la piattaforma non lo vuole perché si alimenta con i soldi dei clienti e quindi deve continuamente sostenere questo clima di positivismo di guadagno infinché appunto rimanga il più possibile la persona all'interno della piattaforma e si possa autoalimentare la truffa che nel caso della piattaforma in questione probabilmente era uno schema Ponzi ma qualsiasi truffa noi abbiamo davanti quindi anche lì è molto problematico qualsiasi investimento ha una certa percentuale di perdita anche i miei clienti glielo dico già prima della consulenza guarda che potete perdere dei soldi anche nei miei scenari di evoluzione del patrimonio con i miei clienti loro sanno che nonostante la mia consulenza possono perdere dei soldi e questo è estremamente importante definirlo e vederlo anche questa schermata sempre in verde sempre in positivo anche quello è un indice di un qualcosa che è stato manipolato ecco continuando a parlare con i miei amici una cosa molto frequente che usciva è no no ma io ho guadagnato l'altro mio amico ha guadagnato funziona oppure altri che dicevano è una truffa ma io ci ho guadagnato e sono uscito in tempo anche qui affidarsi delle esperienze di altre persone per validare se quella piattaforma funziona o meno è estremamente deleterio e non ci porta a delle buone scelte questo perché? perché da un punto di vista psicologico a nessuno piace farci sembrare agli altri dei fessi degli stupidi delle persone che hanno perso dei soldi e quindi quasi impossibile trovare delle persone che ammettono di essere state truffate o ammettono di aver perso dei soldi lo trovate anche su internet è estremamente difficile vedere un video in cui dicono ho perso 100.000 euro sono stato stupido la maggior parte dei video che trovate di guru influencer trovate ho guadagnato 1.000 euro in una settimana e quindi anche lì pensare di star facendo un'operazione corretta perché il mio amico ha guadagnato è una cosa estremamente sbagliata oltretutto un'ulteriore cosa che ho trovato e vi lascio con questa ultima chicca è il fatto che alcuni dicevano so che è una truffa vi ho partecipato ho messo in mezzo altre persone in modo tale che io potessi guadagnare ma poi sono uscito in tempo a parte che questa cosa è da un punto di vista di gestione delle proprie finanze estremamente sbagliata perché comunque tu stai ti stai esponendo a un rischio di truffa e quindi già questo è sbagliato ma oltretutto va contro la legge e questa è una cosa molto importante da capire perché magari molti pensano ma sì io ci entro butto dentro qualche persona poi ci esco faccio i soldi tanto non mi può succedere nulla e in realtà no perché? perché ce lo dice la legge come direbbe un influencer giuridico secondo la legge del 17 agosto 2005 articolo 7 qualsiasi persona che organizza delle truffe piramidali oppure propaganda quindi dice agli altre persone entrateci perché guadagnate possono subire delle sanzioni penali in particolar modo l'arresto da 6 mesi ad un anno e una multa che può arrivare da 100.000 euro a 600.000 euro quindi state molto attenti quando dite sì sì entra è fidabile venite e date la corda agli amministratori che magari avete le chat su telegram con l'amministratore delegato con gli dirigenti dell'azienda di trading anche questa cosa folle ma vabbè state molto attenti a dare corda a quelli che hanno iniziato questa truffa perché potreste essere dei complici e secondo la legge sanzionabili anche penalmente quindi quando trovate delle truffe l'unica cosa da fare è stare lontano da queste truffe appena trovate alcuni segnali che vi ho un po' raccontato all'interno di queste piattaforme e soprattutto dire alle altre persone di allontanarsi da quelle truffe di non partecipare minimamente io ho sentito anche gente che diceva ma sì io ci ho messo dei soldi ho messo dentro anche mia moglie ci paghiamo le vacanze e poi usciamo è reato è reato detto questo spero di avervi dato qualche consiglio so che magari alcuni di voi penseranno ah ma sono consigli così banali se qualcuno ci casca se lo merita io non sono totalmente d'accordo ovviamente perché l'istruzione economica finanziaria è una prerogativa dello Stato e quindi lo Stato ha fallito in quel caso a formare le persone e poi se iniziamo a fare questi discorsi diventiamo delle vannemarche qualsiasi e secondo me non è un ottimo faro da perseguire quello di vannamarchi detto questo io vi ringrazio se volete delle consulenze specifiche in ambito finanziario ed economico link in descrizione e ci vediamo al prossimo video alla prossima